Una tragedia ha colpito Bologna durante la notte con tre bambini e una donna deceduti in un incendio che ha devastato un appartamento in via Bertocchi nella periferia della città. La donna, presumibilmente la madre, una 32enne di origine rumena, è sfirata durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale maggiore dove era in procinto di essere ricoverata in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti vigili del fuoco, il 118 con automediche e ambulanze insieme alla polizia che ha disfiegato unità specializzate come la scientifica e la squadra mobile per le indagini. La procura è stata informata dell'accaduto. I bambini deceduti sono stati identificati come due gemelli di circa due anni e un fratello di sei anni. Le prime informazioni indicano che la causa dell'incendio potrebbe essere dovuta a un cortocircuito causato da una stufetta elettrica. L'appartamento è stato sigillato e sono in corso approfondite indagini per determinare le circostanze esatte dell'incendio.